ci troviamo a bassano del grappa è appena arrivata la prima colonna del circo appollo famiglia anselmi eccola qui guardate che belli i camion che spettacolo che spettacolo è sempre un bel spettacolo fotografare l'arrivo di un circo in città sono partiti alle 8 da Musilia di Piave in provincia di Venezia e sono arrivati alle 11 di adesso è la mattina stanno segnando la piazza questa è la piazza dei spettacoli viaggianti a bassano del grappa la piazza dei spettacoli